Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, ogni tanto mi capita di prendere spunto da alcune cose che vedo sui social, sul web. Stamane mi è capitato sotto mano un intervento, che francamente non sono stato neanche lì a vedere di quanto tempo fa fosse, ma è sicuramente sempre molto attuale, del giornalista Marco Travaglio. Si parlava a proposito, come sempre, succede spesso dei parlamentari e della casta. E lui ha citato un intervento del 1974 di Pertini, l'allora presidente della Camera, che poi divenne presidente della Repubblica, che quando gli fu sottoposto il documento per firmare l'aumento degli emolumenti dei parlamentari, si rifiutò dicendo ma con quale coraggio voi venite da me in questo momento di grave crisi, dove i padri di famiglia soffrono e chiedete degli aumenti. Io questa cosa non la firmerò mai. Intanto è facile per voi trovare fra i 640 parlamentari uno che voglia sedersi al mio posto e accontentarvi. Ecco, giustamente sottolineava Travaglio che non è un problema di quanto tempo uno sta in Parlamento, ma cosa fa in Parlamento? E uno, come Pertini, l'avremmo anche potuto avere per 30 anni, 40 anni, 50 anni, non è importante, perché, credo di poterlo dire, e lui l'ha sottolineato, l'abbiamo sempre sentito uno di noi. Ecco, il problema è esattamente, esattamente questo. Che questi proprio si vede, si sente dall'odore che non sono assolutamente lì in Parlamento per fare gli interessi degli italiani. Si percepisce che la mattina, quando si alzano dal letto, il loro primo pensiero non sono gli italiani, non sono come poter alleviare le sofferenze agli italiani. Poi ci sono quelli molto bravi, molto teatrali, come ad esempio Matteo Salvini, no? Lo abbiamo capito negli anni, una parte l'hanno capito negli anni, che semplicemente fa finta di essere un capopopolo, di avere a cuore le sorti del popolo, ma non corrisponde esattamente al vero, perché in primis lui ha a cuore le proprie sorti e quelli della Lega. Poi magari qualcosa per il popolo lo fa pure, ma ripeto, la cosa che il chiodo fisso che ha lui è come continuare a stare in Parlamento e tenere a galla la Lega. E la stessa cosa, guardate, che capita a tutti, a tutti gli altri. Sono veramente pochissimi quelli che, si può dire, somigliano in qualche modo a Pertini, al compianto Pertini. Però volevo oggi parlarvi anche, questo è uno spunto, ma parlarvi di un altro argomento che però è vicino a quanto stiamo discutendo, e cioè il fatto delle divisioni, no? Prendiamo lo stesso Marco Travaglio. Sicuramente per tantissime questioni, anche ideologicamente, non sono vicino a questo giornalista. Però voglio dire, si è in mala fede se non si dovesse riconoscere che Marco Travaglio sicuramente non è uno che fa parte della casta, non è uno che fa parte del sistema. Poi, ripeto, possiamo condividerlo o non condividerne le idee. Mentre tantissimi altri, lo vediamo, come si muovono, quello che dicono, per esempio una Lily Gruber, un Floris, questa sicuramente è gente che invece fa parte della casta. Mirta Merlino, tutta questa gente fa parte della casta. E quando noi ci dividiamo, anche su personaggi che sicuramente potrebbero essere importanti per questo paese, aiutare questo paese ad uscire da questa situazione, noi siamo i primi ad affossarli. Adesso anche la storia di Vannacci, no? C'è chi lo attacca, ma non è vero, anche lui fa parte del sistema, anche lui è uno del sistema, l'ha fatto per vendere più libri e così via. Subito partiamo all'attacco invece di guardare i fatti e magari sì di monitorare come questi personaggi si muovono. E la stessa cosa riguarda la politica e i partiti. Fin quando noi faremo le divisioni degli ultras, chi simpatizza per una squadra e per chi simpatizza per l'altra, noi non faremo mai i nostri interessi, che sono uguali. Le due fazioni di ultras sono le stesse persone, sono il popolo, hanno gli stessi problemi, hanno le stesse esigenze, ma fin quando noi non riusciremo a nostra volta a fare squadra, noi non risolveremo mai i nostri problemi. Perché loro invece sì riescono a fare squadra anche se hanno delle divisioni, se ideologicamente sono lontani anni luce, ma quando conta, anche nelle cose più piccole, appunto aumentarsi lo stipendio, i privilegi, lì sono sempre totalmente d'accordo. Noi invece riusciamo anche a dividerci sul fatto delle libertà, della democrazia, sul fatto degli aumenti ai pensionati e così via. Questo è il grande problema del nostro Paese. Il giorno, e credo che sarà quasi utopia, che riusciremo a capire o che sempre più persone riusciranno a capire che è l'unione che fa la forza, che se siamo in tanti, se capiamo che abbiamo lo stesso problema e chi se ne frega se sulle piccole cose non la pensiamo al 100%, perché è matematicamente impossibile che due esseri umani la pensino esattamente alla stessa maniera al 100% sugli argomenti, anzi sarebbe una cosa sbagliata, sarebbe un rapporto malato. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.